Guardate il sole, guardatelo come si riflette tranquillamente sul mio nuovo cortiletto. Guardate il cactus, è lì tranquillo, sembra non avere problemi, ma il vero problema è proprio qui. Chica, ti stai prendendo un periodo di ferie? La villeggiatura per criminali. Chica, è inutile che fai l'innocente, lo sappiamo tutti che sei colpevole. Hai sonno? Chica, per un pugno di crocchette.